...questo carro da musiche vaticane ed inni nazionali vari. Signori, tratto dall'omonimo film uscito nelle sale lo scorso anno che racconta la vita di Papa Francesco, ecco voi il carro, chiamatevi Francesco! ...e allora va Giulia Pouaccio! ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E voi, cari fratelli, pregate per me. Domani voglio pregare la Madonna per il nostro benedetto sedicesimo che lo custodisca e lo protegga. In nome dei Patris e dei figli e dei spiriti santi, la Madonna sia con voi. Buona notte e buon riposo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.